L'oncologo e ricercatore dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, in prima linea per la lotta al Covid-19, con trattamenti innovativi come l'utilizzo del farmaco per l'artrite reumatoide e togilizumab, sperimentato per la prima volta a Napoli, su pazienti affetti da coronavirus non si ferma e parla già di vaccino, non lo avremo prima di giugno 2021, precisa, ma il Pascale è tutto pronto per avviare la sperimentazione, che inizierà tra ottobre e novembre, Ascierto se detto ottimista e fiducioso sulla buona riuscita del vaccino, che ha precisato testerà anche su di sé, importante per il momento però non abbassare la guardia, lo ha ribadito alla consegna al Pascale di Napoli di camice e mascherine destinate al personale sanitario dell'Istituto, donati da Gianluca Beneduce e Gina Vaia, imprenditori del settore tessile, titolari dell'azienda Filafil, riconvertita alla produzione di dispositivi di protezione individuale. Soprattutto in questa fase 2 l'attenzione, il livello di allerta deve essere sempre alto e quindi non abbassare la guardia. La prima regola è mettere in sicurezza tutti quanti, tutti quanti significa i pazienti in primis ma anche gli operatori sanitari, anche perché gli operatori sanitari potrebbero diventare un veicolo di infezione importante, per cui i presidi di protezione, mascherine, camici di protezione sono degli elementi fondamentali, ribadisco di come soprattutto in questa fase, nella fase 2, quando ci sono più persone in giro perché sono ripartite delle attività, è importante questa opera di contenimento anche attraverso la protezione per evitare che si diffonda l'infezione.